Il sovraffollamento è qualcosa che ci colpisce in modo particolare anche in considerazione del fatto che noi gestiamo anche soggetti che hanno delle problematiche sanitarie e che non possono essere gestiti altrove. Pochi giorni fa il direttore del carcere di Gazzi, Calogero Tessitore, ha espresso preoccupazione per il sovraffollamento della casa circondariale, eppure la realizzazione di nuovi posti per i detenuti in provincia di Messina è un obiettivo a portata di mano. Il nuovo carcere potenzialmente c'è già ed è l'ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto. Ristrutturarlo ed adeguarlo però sarà possibile solo quando gli attuali distretti saranno trasferiti in altre strutture di tipo sanitario. Il percorso è già tracciato da tempo, ma l'OPG di Barcellona, ormai inadeguato e giudicato offensivo per la dignità umana anche delle più alte cariche dello Stato, continua a rimanere funzionante in regime di proroga. La chiusura, inizialmente imposta per il marzo 2013, è slittata con obbligo al marzo 2014, pochi mesi ancora dunque per trasferire gli ospiti dell'OPG in altre strutture. Il direttore dell'ospedale psichiatrico giudiziario, annunziante Rosania, ha confermato che si attende solo il via libera per accompagnare i ristretti, giudicati pericolosi, nei quattro centri sanitari individuati in Sicilia. Ma è proprio nell'approntare questi centri, che riferisce Rosania, si registrano i maggiori ritardi, responsabilità in questo caso delle ASP, ovvero della sanità regionale. Cancellare la vergogna dell'OPG e realizzare un nuovo carcere dando respiro ai detenuti di gazzi dunque è il doppio obiettivo possibile. Pochi mesi per raggiungerlo si attendono notizie certe dall'assessorato regionale alla sanità.